Banchi e sedie da spostare, aule da allestire. Sono giorni di fermento nelle scuole di Termoli in vista dell'inizio delle lezioni, il prossimo 15 settembre. Grosse novità all'Istituto Comprensivo di Difesa Grande, dove le classi della scuola secondaria di primo grado saranno trasferite in via Po, vicino alla chiesa di San Pietro, a causa dei lavori nella struttura di Difesa Grande, iniziati a giugno al termine delle lezioni. La dirigente Luana Occhionero, da due anni a capo dell'Istituto, si è occupata della riorganizzazione degli spazi. Sette le classi trasferite per un totale di 107 alunni. La scuola secondaria di primo grado sarà trasferita nel plesso di via Po e i locali dell'ex scuola secondaria ospiteranno gli alunni della scuola primaria di Difesa Grande. Sono state adeguate le aule di via Po per accogliere i nuovi alunni della secondaria, sono state infatti realizzate nuove aule, sia al primo piano che al piano terra. Per quanto riguarda invece i lavori che sarà la scuola primaria, anche qui stiamo sistemando le aule per accogliere i piccolini, quindi spostamenti anche di banchi, di lim, tutto il necessario per poter accogliere i nuovi bambini. Lavori importanti quelli in corso e necessari per avere una scuola più sicura per tutti. Qui a Difesa Grande ci sono lavori di adeguamento sismico e rifacimento strutturale di tutto l'edificio polifunzionale, quindi sono lavori ingenti per un appalto di quasi 1 milione e 200 mila euro, quindi capite bene che i lavori sono importanti. C'è stata un'ottima collaborazione sia con l'ufficio tecnico del comune, con il vice sindaco, sia con l'impresa, perché devo dire che hanno lavorato cercando sempre di venire incontro alle esigenze della scuola. Qualche disagio per le famiglie che hanno dovuto accettare lo spostamento dei figli. Certamente il bicchiere va sempre visto mezzo pieno, noi avremo una scuola nuova, sicura e più confortevole per tutti i nostri studenti, quindi questo è l'aspetto che dobbiamo sempre tenere in considerazione. Poi le difficoltà ci sono, però l'ufficio tecnico e l'ufficio lavori pubblici ci hanno garantito un servizio di navetta che porterà gli alunni della scuola secondaria in via Po, andata e ritorno.